...di lavoro. E veniamo al rapporto annuale del Banco di Napoli sugli scambi commerciali nel Mediterraneo. Diego Dionoro. Non si parla mai abbastanza di Mediterraneo quando si tratta di pensare alla ripresa economica del paese, eppure gli scambi tra il nord e il sud del bacino costituiscono una consistente parte della ricchezza italiana. Le relazioni commerciali tra la nostra penisola e l'area mediterranea sono cresciute di quasi l'80% nel corso dell'ultimo decennio. E in questo quadro, l'ammontare degli scambi tra il Mezzogiorno e la sponda nord dell'Africa, la Grecia o ancora la Turchia, si attesta su un valore triplo rispetto al resto d'Italia. Dati importanti e strategici presentati a Napoli dall'Osservatorio Permanente sull'Economia del Mediterraneo, centro studi del gruppo Intesa San Paolo. Attenzione che altri paesi stanno facendo meglio di noi, e questo però è anche la misura di quanto importanti siano questi mercati, perché altrimenti ovviamente non ci sarebbe una così crescente interscambio. Significativo che oltre il 70% dell'interscambio con l'area del Mediterraneo avvenga via mare, ma che tuttavia i porti del sud Italia stiano progressivamente perdendo posizione a favore di concorrenti, ad esempio tunisini o egiziani, che avanzano a passi da gigante. C'è da fare due o tre cose fondamentali. Uno, che l'Europa decida che sia una priorità allo sviluppo del Mediterraneo. Due, che ci sia una banca di investimenti che favorisca gli investimenti. E tre, che si risolva il problema del costo dell'energia.